Qua, mio caro Alexios, volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto. Cosa avevi in mente? Di lavoro faccio il poeta, ma so fare molte altre cose. Sono anche un ottimo cuoco. Permettimi di prepararti un sontuoso banchetto. Non mi dispiacerebbe. Perfetto. Solo una cosa. Mi servirebbe aiuto per trovare alcuni ingredienti. Bisognerebbe cacciarli. E dimmi, perché non lo fai tu? Credo che tu abbia capito che sono più bravo con le buone maniere che a combattere, no? A giudicare da quanti banditi ho dovuto uccidere per te, direi che non sei affatto un guerriero. Devo pur compensare in qualche modo. Che cosa devo cacciare? Per questa ricetta serve carne di cervo. Quelli che ci sono qui intorno vanno benissimo. Raggiungimi alla rupe vicino all'accampamento di Ipermnestra, quando ne avrai un po'. Grazie. Grazie. Grazie.